Ciao, benvenuti a questo nuovo video. Approfitto di questo spiraglio di sole per spiegarvi come ho fatto a debellare i topi che si sono impossessati della mia casa in campagna. Ho usato i modi più trucci disponibili su Amazon, ne vedrete. Se siete deboli di cuore, non continuate a guardare questo video. Scherzo, rimanete fino alla fine per capire come è andata a finire. Ma tutto dopo la sigla. Questo è il primo accrocchio che ho usato per tentare di intrapporare i miei coinquilini non invitati. Mi è piaciuta un sacco questa trappola. Il topolino entra, dovete mettere del cibo sulla pedana che vedete, rialzata. Quindi mettete del cibo, il topolino entra, fa peso sulla pedana e la porta si chiude. In teoria, anche in pratica. No, comunque vi assicuro che funziona. Il topolino rimane imprigionato, ha del cibo, quindi riesce a sopravvivere anche per un paio di giorni, nel caso voi non foste in casa. E soprattutto ha delle prese d'aria per poter respirare. In passato l'ho già usata questa trappola, ha funzionato. Ho trovato, sono riuscito a catturare un paio di topolini di campagna che poi ho liberato nei campi. E niente, loro sono tornati alla loro vita e io sono tornato a essere l'unico inquilino della casa. Però non ha funzionato questa volta perché guardando le telecamere di sicurezza ho scoperto che il topolino, che più che altro è un topolone, forse un ratto, un ratto di campagna, è un po' culone. E quindi cosa succede? Essendo culone non riesce a passare dall'ingresso. Entra solo col muso, ma il culo rimane fuori e quindi non funziona. Per cui ho sperimentato un altro accrocchio. Adesso ve lo faccio vedere. Preso dalla disperazione sono andato al lobby, camminando nei vari reparti. Sono stato attratto. Sapete quelle colonnine, quei video dove vi fanno vedere dei prodotti che funzionano a meraviglia? Che vi dicono, se usi questo prodotto risolverai tutti i problemi della tua vita. Ci ho voluto credere. Ho detto, mi stai chiamando. Ho trovato il prodotto che fa per me. Eccolo qua. Ho trovato questo accrocchio, questo cazzillo. Le premesse sono interessanti. Stop ha topi, zanzare, ragne, mosche, formiche e tutti gli insetti. Come funziona questo accrocchio? Dovrebbe andare con una doppia tecnologia. Ossia, si inserisce nella... Dopo ve lo faccio vedere. Si inserisce nella presa, nella corrente elettrica. Nella presa corrente elettrica. E dovrebbe funzionare con una doppia tecnologia. L'elettromagnetismo e grazie agli impulsi genera una barriera impenetrabile per tutti gli animali e gli insetti ostili che vogliono entrare in casa non essendo evitati. E tra l'altro senza pagare affitto. Insomma, questa roba è la cosa che mi fa girare di più le palle. E poi anche con gli ultrasuoni. E dice papale papale. Le onde ad alta frequenza emesse ad intermittenza dal dispositivo rendono insopportabile l'ambiente per gli insetti e eroditori. Protegge fino a 250 metri quadri. Credibile, fantastico. Adesso ve lo faccio vedere. Ho detto lo provo. Lo devo provare perché una cosa del genere è fantastica. Non faccio male a nessuno. Loro si incazzano perché sentono rumore e sono disturbati. Eccolo qua. Eccolo qua, vedete? Tra l'altro anche una luce notturna di spia può funzionare anche come luce notturna. E ha praticamente... Sì, è molto cheap. È molto cheap. Costato quasi 20 euro. È molto cheap. E ha tutti i suoi bei LED. E ogni volta che emette ultrasuoni o elettromagnetiche si accendono i LED di riferimento. Quindi le istruzioni dicono usalo per 2-3 settimane e avrai risolto tutti i tuoi problemi. Ci vediamo tra 2-3 settimane e vi faccio sapere com'è andata qua dopo. Sono passate 3 settimane. Sembra due minuti fa che ci siamo visti. Sono passate 3 settimane. Come è funzionato l'accrocchio? Di merda. Quindi ringrazio l'hobby per avermi venduto una cagata che non ha funzionato per niente. Anzi, devo dire che il topolino, culone, è riuscito a mettere su famiglia. Praticamente adesso c'è una famiglia di sorcini, culoni. Come ho risolto alla fine? Adesso ho dovuto sostenere delle lunghe destenuanti trattative. Praticamente. Topo e la famiglia mi pagano la Tari. Ci siamo accordati. Cagano fuori casa. Abbiamo deciso di coabitare in modo tranquillo e sereno. Perché purtroppo tutti i vari accrocchi cruelty free che ho trovato in giro non hanno funzionato. E onestamente è una famiglia allegra. Si diverte, fa casino, mi mangia qualunque cosa. E non so come fare. Se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, commentate, non commentate, like, dislike, infatti, insomma, un po' quello che volete. E no, magari faccio un video serio, poi vi racconto veramente come è andata a finire. Ciao, prossimo video. 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 Grazie a tutti.